Il farmacista nisseno Salvatore Messana è stato nominato esperto in seno alla sezione farmacovigilanza prac dell'EMA in rappresentanza delle organizzazioni delle attività sanitarie dei Paesi membri. Il comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza è il comitato dell'Agenzia europea per i medicinali responsabile della valutazione del monitoraggio della sicurezza dei medicinali per uso umano. La farmacovigilanza è quell'attività che mira a monitorare la sicurezza e l'efficacia dei farmaci in commercio ed è organizzata con una rete che parte dalle segnalazioni dei pazienti, delle farmacie e dei medici che attraverso appositi uffici territoriali, regionali e nazionali arriva al prac e quindi all'EMA. Sono onorato addetto Messana e mi sento particolarmente impegnato per questo difficile e prestigioso impegno professionale. I farmacisti spesso rappresentano la frontiera della sanità come primo contatto quando si avvertono malesseri o problemi di salute così come possono guadjuvare il medico nel seguire l'andamento delle terapie dei pazienti e per questo la funzione deve essere sempre onorata con lo studio e l'aggiornamento.